Si è oggi riunita ufficialmente la giuria per l'assegnazione del premio Claudio D'Albertis. Il premio in ricordo di mio papà incarna perfettamente quello che è stato uno dei motti principali della sua vita, che è proprio questa continua tensione all'innovazione che ha permeato proprio tutta la sua esistenza. Il dibattito è stato animato, ho visto la partecipazione di tutti i giurati con l'assegnazione del premio al vincitore, che ovviamente in questa sede terrò riservato, e una menzione a un altro progetto che è stato veramente meritevole, che è arrivato al photo finish col progetto vincitore. Quindi sono molto contento, ringrazio tutti i partecipanti e presto verrà annunciata la proclamazione del vincitore a tutta la platea di associati.